Fabio Sciutti, organizzatore del torneo delle Ordini e Professioni. Parlami un pochettino del torneo, Fabio, e della vostra squadra dell'Alex, grazie. Dunque, siamo un gruppo di ragazzi dell'Alex e quest'anno facciamo parte della squadra degli Avvocati in generale, perché poi la squadra rappresenta tutto l'Ordine degli Avvocati. Il torneo è stato organizzato dall'Alex in quanto tale. Il nostro obiettivo è quello di fare solidarietà quest'anno, se possibile, a delle associazioni che hanno bisogno e che hanno avuto l'aiuto e quindi possono farlo specialmente con i tuoi tutti che se vengono a Carlini a contribuire in maniera volontaria fanno bene proprio di tanta gente. Allora, un invito a tutti gli appassionati. Assolutamente. Alla finale, se non sbaglio, c'è sabato alle 17.00. Perfetto, me lo confermi. Grazie. Fabio, alla prossima.